Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno. Con questa citazione di Charles Dickens non solo si apre la brochure degli eventi natalizi, ma racchiude in una sola frase la filosofia che anima lo spirito degli organizzatori fanesi. Le scelte fatte sono state pensate in un'ottica di coinvolgimento di tutta la cittadinanza, con una programmazione quanto più variegata, in grado di spaziare dall'allestimento in piazza 20 Settembre con il nuovo albero di Natale, all'accensione delle luci nel centro storico, in programma per sabato 28 novembre, dai concerti agli spettacoli, dalle mostre agli stand del mercatino, che dal 6 dicembre esporranno i loro prodotti artigianali. Un'opportunità per chi desidera acquistare regali sfiziosi e originali. Nel nostro programma abbiamo inserito gli eventi a Teatro della Fortuna, che per noi sono molto importanti, e una sinergia con il teatro che porterà fuori un bello spettacolo in piazza 20 Settembre per il giorno di inaugurazione di cui parleremo. Avremo la città aperta a livello di musei, monumenti, nella nostra brussura abbiamo inserito tutte le aperture dei musei, ma non solo, abbiamo programmato delle visite guidate con Manuela Palmucci e qualcosa anche con il nostro vicepresidente Luca Fabri, che ci faranno conoscere la città, quindi chi vuole potrà programmare queste visite. E ancora tanto altro, non sto a citarlo perché è veramente lungo, anticipo una cosa che presenteremo, che per l'ultimo dell'anno gli spettacoli saranno ben due, uno all'interno del teatro e uno in piazza 20 Settembre, e il tutto si chiuderà logicamente il giorno della Befana, dove saranno aggiornate interamente dedicate ai bambini, dove porteremo, anzi la Befana porterà calze per tutti i bambini. È un programma che non ha precedenti, secondo il sindaco Massimo Seri, è convinto che le iniziative riusciranno a dare un segnale forte alla città, ma al tempo stesso a trarre turisti, grazie ad una campagna promozionale fatta a livello nazionale in collaborazione con altri comuni e proloco provinciali. È un bel messaggio che noi diamo, anche di ottimismo, in un momento non facile, e anche una speranza a tutti gli operatori. Quest'anno è la prima TAP, ma già per il prossimo anno avremo altre iniziative in cantiere, e ho già detto che dal 7 gennaio si inizierà a lavorare per la prossima edizione. Quindi veramente molto contenti, insieme a me c'è anche l'assessore Carla Cecchettelli, che ha seguito in prima persona, ma voglio anche ringraziare le associazioni di categoria, la proloco, che hanno fatto un lavoro straordinario, ma soprattutto la parte bella, che c'è questa ritrovata unità da parte di tutti, che fa la differenza e che porta quel valore aggiunto.